Scusa, non fumo male, fumo fa male, guarda, la usiamo per una cosa interessantissima, abbiamo un mazzo di carta, lo mescoliamo, prendiamo la carta, bella firma sulla carta, si cancella? No, non si cancella, perfetto, guarda, la carta con questa qui, prendiamo una sigaretta, adesso tu l'hai segnata in un punto, io la segnero in un altro punto, guarda, un punto della carta, un punto qualsiasi, vediamo questo punto qui, vado a segnarla in questo punto, in questa maniera, in questa maniera, in questa maniera, in questa maniera, da sotto, in questa maniera, la segnala, la tua, la carta, mi regalo, come esiste, pure sfiga come è fatto. Scusa, non è così. Autore dei sovrapposti